Ciao ragazzi! Ciao! Benvenuti! Grazie! Tutto posto? Sì, sì. Mi chiamo Sven. Piacere, è un piacere e un onore di essere il vostro, come si dice? Conduttore! Grazie! Ok, ok. Come puoi vedere l'italiano è molto bene e quindi proviamo, no? Di trovare una lingua che capiscavamo. Se non parlare spagnolo, io faccio il traduttore. Questo è molto più facile per me. Vili, come sei tu spagnolo? Io parlo un pochino, un pochino. Però la idea, la meta, la idea è di fare un giro e di fare piccole, come si dice, piccole competizioni. Ok. E, un'altra domanda, quando si preparano per un partito, non so, posso immaginare che c'è molta gente che sta ascoltando la musica o che si motiva con la musica, con canzoni differenti. Per voi, è importante la musica o è qualcosa che non vi interessa? Sì, io soprattutto ascolto musica prima del partito. E Will lo sa che siamo compagni di stanza e gli faccio un po' di concerto, sai? Mamma mia! Prima del partito gli faccio un po' di concerto così, canto un po', sai? Sto ascoltando, anche? Eh sì, quello sempre prima di uscire della partita. Sì? No, all'ascaldamento, sì. Prima di uscire all'ascaldamento mettiamo sempre la bicicletta, quella di Shakira. Come vedo, vi piace la musica perché ho preparato una competizione di musica. Sì? Tengo 8 o 10 canzoni, le ho posizare una canzone e la prima che fa, lo fa così, e quindi puoi dire il nome della canzone o il nome dell'artista, ok? Ma questo non vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no e la ultima è in spagnolo ok, perfetto questa è stata la prima competizione adito a Willy con la seconda tengo que hacerlo più rapido perché stavamo cantando demasiado quindi questo si chiama tu o io con le tarjeti che avete io vorrei una domanda e è per voi e per la persona che la persona che la persona che è più una a una si si ok chi canta meglio chi canta meglio Willy quindi tu canta meglio sì 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 100% io non canto abbiamo visto adesso era una domanda molto tonta perché abbiamo visto tutto ma io le metto un po' di magia sai però è importante e la seconda chi è chi è meglio chi conduce meglio chi è meglio chi è meglio io perché non posso guardare ancora non posso guardare che tu mandi e la prossima domanda chi è meglio 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 io gioco a fifa io gioco a fifa a casa con mio fratello a cento per cento ti vingo è meglio è meglio è meglio è meglio William e Adrian abbiamo parlato di questo nel carro il perdedore di questo challenge tiene che limpiare le zapate dell'altro e ha bisogno di mettere una storia su Instagram e hai bisogno di marcarmi ok ok perfetto tutti tutti sono giocato ok lascia lascia giocato passare 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 che era di questo? Barca, Barca! Primera tira, NADA! Hai visto questa eh? Ma, Dio, Dio. Dai, Dio! Parla di negoci, Pagli! Ok, l'ho fatto da qui! Da qui, ok? Da qui, ok? Sono un giro che in gioco, non so bene adesso! Vai, c'è il nello affra! Vai, vediamo! Oh, però meglio che prima! Sì! Va bene! No, no, no! Questo non è niente! Ok, 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 mi fai! Oh fuck! Era un placer! Molto bello ragazzi! Quindi non lo fa! Noi perché lo fa! Noi perché lo fa! Noi, non ci vediamo! Ciao ciao!